Fabrizio Moro torna ad Amici 17 dopo battiti live Amici 2017-2018, Fabrizio Moro ancora prof dopo battiti live. Stasera andrà in onda su Italia 1 la quarta puntata di battiti live, la rassegna canora itinerante di Radionorba condotta da Elisabetta Gregoraci che vedrà alternarsi sul palco Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Elodie, Ermal Meta e tanti altri. Fabrizio Moro tornerà ad Amici 17? Il cantautore romano ha ricoperto il ruolo di professore di canto nelle ultime due edizioni di Amici di Maria De Filippi, quasi sicuramente sarà riconfermato anche se manca ancora l'ufficialità. Maria De Filippi stima tanto il noto cantautore, è molto spontaneo con i ragazzi, non li illude e cerca di trasferire loro la sua esperienza senza ergersi a maestro. Fabrizio Moro ad Amici 15 ha dimostrato la sua generosità regalando a Delodie il suo inedito Un'altra vita che ha scalato la classifica dei singoli più venduti. Il cantante attualmente è in tour per promuovere il suo nuovo album Pace che contiene il brano presentato a Sanremo Portami via. Battiti Live con Fabrizio Moro, incerto il suo futuro ad Amici. Nell'edizione di Amici 2017-2018 ci sarà Fabrizio Moro? Il cantautore, dopo la partecipazione di stasera a Battiti Live, continuerà a girare l'Italia. Originario di Vivo Valenzia, Moro ha fatto tappa in questi giorni proprio in Calabria, a Rocca Imperiale e a Diamante, CS, dove si è registrato il tutto esaurito. Una vera e propria ovazione ha accolto la canzone Portami via che si è aggiudicata il prestigioso premio L'Unezia come miglior testo e videoclip. La carriera di Fabrizio Moro ha preso il volo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2007 con il brano Pensa dedicato alle vittime della mafia con cui ha vinto la categoria Giovani e il premio della critica Mia Martini. Da lì è stato un crescendo. Dal 1996 ad oggi ha pubblicato 11 album ottenendo 6 dischi di platino e 3 dischi d'oro. Di solito schivo e riservato, Fabrizio Moro ha dimostrato la sua simpatia nel talent show di Canale 5. Moro ci sarà ad Amici 17? Intanto stasera si esibirà a Battiti Live condotto dalla Gregoraci, poi chi vivrà vedrà. Ciao!